Perché? No? Perché ti ha tradita? Perché ti ha lasciata? Questa è la classica domanda che si fanno tutte le persone Ma, allora, personalmente sono stato tradito Mi sembra una volta o due negli ultimi dieci anni Accertate Il tradimento non è qualcosa di così raro, ok? È qualcosa di comune Vedi, le persone in realtà sono molto standard quando tradiscono Fanno semplicemente quello che sentono, si lasciano andare agli impulsi E per una buona percentuale di persone Ti puoi aspettare che il tradimento ci sia Ti puoi aspettare che ci sia un buon tradimento nel 40% circa delle due relazioni Mi sembra che la statistica fosse qualcosa come il 40% o il 50% Non mi ricordo Sicuramente quindi non sei solo, ok? Siamo qui tutti insieme, ok? Tutti felicemente cornuti Ma adesso, al di là delle storie, bando alle ciance Scoprire il perché, no? Ti stai chiedendo probabilmente perché lui è arrivato a tradirti E che cos'è che l'ha portato a tradirti, cos'è che l'ha portato a volerti tradire In teoria, intendere bene quelle che sono le cose dove tu hai sbagliato sarebbe la cosa migliore Cioè nel senso, se tu sei stato ingannato in una relazione tossica, ok? La colpa è di lui Però teoricamente se poi ci sei ritornata indietro Quindi hai scelto di tornare indietro e replicare la relazione tossica Non è colpa di lui È colpa tua, ok? Lo standard è un po' questo Cioè ci vogliamo aspettare un po' questo stile Nel senso, se tu ti imponi nei confronti di un uomo Con un approccio del tipo Beh, sono la vittima Sono la vittima Sono la vittima Comincerei a pensare Forse tu non sei proprio così tanto la vittima Sai perché? Perché in realtà Siamo un po' tutti gli artefici del nostro destino In parte, no? Almeno al 70-80% 70, facciamo al 70% Poi ci sono tutte quelle variabili di fortuna Però Non vorrei che tu pensassi O che ti mettessi a pensare Che magari Sì, ok È sempre colpa degli altri Cioè, se sei stata tradita Il motivo Non è solo suo Cioè, anche lui ha sbagliato Alla grande Siamo tutti felici e convinti di questa cosa Però c'è un problema di fondo Nel senso In realtà l'errore Non è stato fatto solo da lui È stato fatto anche da te O un errore di applicazione Nei confronti della relazione O un errore Sicuramente Il secondo punto Di un errore di valutazione Ok? Un errore di valutazione Errore di valutazione si traduce come? Si traduce nel senso Wow Vedo che lui Non fa questo Non fa quello Non fa quell'altro E mi faccio passare le cose Sotto gli occhi Mi faccio passare le cose Completamente sotto il naso E ignoro del tutto Quello che è il suo modo di fare Il suo modo di essere Tanto non mi importa Che sono innamorata Cioè, questo assetto un po' stile Paraocchi Cioè, a cavallo col paraocchi Che ti porta poi al devasto Perché ti porta al devasto? Perché in realtà Poi col passare del tempo Annebbi la vista Cioè, tendi a non vedere più Quelle che sono le realtà Dei fatti Quando interagisci con un uomo Penserei che sia tutto un po' rose e fiori Solo perché tu vuoi che sia rose e fiori No? Penserei a valutare le cose Solo per quello che Che hai la risposta Che ottieni per te stessa Cioè, nel senso Ok, se io mi bongo così Sono super propensa Sicuramente allora Andrà bene Andrà alla grande No! Lì ti vai a autopilotare Vai in autopilot Per il tradimento Il tradimento Non è qualcosa Che vuoi che si verifichi Ma sai che si può verificare Non vuoi avere un'attesa Del tradimento Sul Diciamo Su ogni approccio Che fai con ogni persona Che fai Ma vuoi aspettarti Che il tradimento Sia qualcosa Che comunque sta sempre Dietro l'angolo Io personalmente Ti suggerisco il mio assetto mentale Poi lo puoi utilizzare Replicare E fare come ti pare Assetto mentale mio Personale È Ok, fantastico Vedo che c'è il tradimento Bene Quindi Mi impongo Come? Mi impongo in questo modo Inizio a pensare Che in realtà Io non gestisco le persone Non gestisco altre cose Non gestisco lei Non gestisco niente Niente di niente Gestisco soltanto me Quindi che cosa che posso gestire Di me stesso Che può far sì Che io non venga tradito In futuro Non venga tradito Basta Sicuramente Ipergerosia Iperpossessività Tutte queste cazzate Le puoi gestire Le puoi controllare Puoi controllare Il tuo assetto mentale Il modo in cui ti puoi Ne confronti lei Per E di lui Però in realtà Vuoi sicuramente pensare Che Se vengo tradita Non ho aspettative Che non ce l'avevo nemmeno prima Quindi se vengo tradita È ok comunque Arrivederci e grazie Cioè io la penso così Quindi se vengo tradito E mi chiedo Ok perché lei mi ha tradito Perché lui mi ha tradito Perché lui mi ha tradita Tu ragazza Che stai guardando questo video Ti chiedi Wow Io non capisco Perché lui Mi abbia tradita Il motivo è che ci sono Diverse variabili Ma Ancora prima Nel tuo Stile di vita Quindi nel tuo approccio All'interno della relazione Non vuoi pensare Assolutamente Che Il tradimento Sia una paura Cioè L'approccio e la visione Al tradimento Non è più Wow È qualcosa di cui ho paura Ho paura e si verifichi L'approccio Il mio approccio personale Al tradimento È diventato Wow Sicuramente se si verifica Il tradimento Andrà bene Perché in realtà Il tradimento Non è nient'altro Che una definizione Del disinteresse Della persona Che stai frequentando Se questa è una definizione Del disinteresse Noi abbiamo risolto Perché se la vedi In questo modo E vedi semplicemente L'essenza stessa Di scelta proprio Di quell'atto Tu sai che Quell'atto Rappresenta per te Una violazione Quindi nel senso Quindi un taglio Al contratto Che avete stipulato Che è quello Di monogamia e fedeltà Fra di voi Un tacito accordo Di monogamia e fedeltà E basta Quindi semplicemente Non hai la possibilità Di rapportarti In altri modi Ok Cioè nel senso Non puoi fare altro Puoi fare solo questo Quindi la puoi visionare In questo modo Se la visioni In questo modo Penso che tu Possa avere dei buoni risultati E penso che tu Possa anche distaccarti Dal perché mi ha tradita Cioè Anche il chiedersi Costantemente Perché mi ha tradita Perché Perché mi ha tradita Perché mi ha tradita Perché mi ha tradita Chiedersi questo Non è funzionale Cioè Chiedersi perché ti ha tradita Non è funzionale E chiedersi invece Perché Io Mi continuo a chiedere Perché mi ha tradita Lo so che è brutto da dire Perché sembra una matrioska Ma in realtà Ma in realtà Questo assetto mentale Secondo me Ti dà un attimo Uno switch leggero Cioè perché Io continuo a chiedermi Perché Perché non me ne sbatto Al cazzo No Perché non me ne sbatto E Il motivo Sta da qualche parte Lì dentro Cioè Tu per qualche motivo Non te ne stai fregando Perché lo ami Ok fantastico Però In teoria C'è una perdita Del focus Cioè nel senso Io mi chiedo Perché mi ha tradita No E la perdita Del focus Sta nel fatto Che io mi sto concentrando Su di lui Non su di me E chi è la persona Che alla fine dei conti Io mi devo portare Nella bara Cioè Qual è la persona Che alla fine dei conti Io devo comunque Portarmi Nella tomba E devo avere Nella tomba Fino alla fine Nei tempi Sono io No Ok Quindi Non ha senso Concentrarmi su qualcuno Che in realtà Ha scelto Di violare un patto Che prevede Il taglio Della condivisione Del percorso familiare Il percorso di vita Io penserei Di scoprire Semplicemente Il perché Concentrandomi Sul perché Io penso Che lui Mi abbia tradita Cioè Se tu Capisci Che cos'è Che ti porta A continuare A pensare In questo modo In realtà Poi ti accorgi Che ci sono stati Degli atteggiamenti Che hai messo in pratica Nei suoi confronti Di lui Che l'hanno portato A volerti tradire E quindi scopri Ancora di più Di te stessa Spero di essere Sti dato l'aiuto Iscriviti al canale Qua sotto In descrizione Dovi tutte informazioni Per consulenze E percorsi Conoscitivi con me And I'll see you In next Ah E c'è una consulenza Graduita Conoscitiva Qua sotto E c'è una consulenza